La questione dello Stato sociale potrebbe essere sintetizzata da una frase di Jeremy Rifkin, un otto studioso di politica, sociologia, futurologia statunitense, che ha detto che il modello europeo è molto meglio di quello statunitense. Non dobbiamo scignottare in questo gli Stati Uniti. Il modello europeo di Stato sociale, che viene dalle sue grandi radici e da una cultura conquistata a prezzo di inenarrabili dolori, lotte, sangue, non deve essere smantellato, anzi deve essere rilanciato sfruttando i nuovi strumenti di conoscenza che abbiamo. Ma l'esistenza di uno Stato sociale fa di una società una società armonica e soprattutto dove i conflitti vengono composti e mediati attraverso il confronto. L'abolizione dello Stato sociale significa andare incontro a infelicità e a conflitti insanabili.